Sono Maria Pia Paranta e faccio parte dell'Insurance Club, una community di KN e mi occupo di strutturare i corsi di formazione. Manca davvero poco il nostro percorso formativo sulle frodi assicurative che si terrà qui a Milano il 12 e 13 giugno e proseguirà a settembre il 12 e il 20 sempre qui a Milano. Il corso si struttura in tre moduli. Nel primo saranno presi in esami temi quali Cyber Security e Cyber Crime, ovvero la nuova frontiera delle frodi assicurative. Nella fattispecie verrà dato un focus speciale sugli strumenti per analizzare e cercare di prevedere le frodi. Il modulo potrà contare sulla docenza di due esperti del settore, Marco Frolle, direttore sinistro di Multiseras e Giorgio Grasso, un avvocato specializzato sulla sede assicurative. Il giorno successivo si terrà il secondo modulo con un focus su ramo RC Auto e CVT che potrà contare sulla presenza di Paolo Masini che in qualità di direttore sinistro di Cattolica Assicurazione illustrerà anche il modello antifrode di questa società. Il corso proseguirà a settembre con un focus particolare sui rami non alto, quindi sui rami elementari e sul ramo vita e salute con un focus specifico sul MEDMAL. I docenti di questo modulo saranno Marco Ruffanti e Andrea Morbino di Cattolica Assicurazione. Affrettatevi ad iscrivervi perché manca davvero poco, vi aspettiamo!